Bene, adesso abbiamo in collegamento con noi l'assessore regionale Sonia Palmeri, assessore al lavoro. Ben trovata, assessore, grazie per essere con noi in diretta quest'oggi. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera, assessore. Bene, partiamo subito con la prima domanda. Innanzitutto la ringraziamo per essere stata qui con noi, per essere intervenuta in diretta per la prima volta con la nostra emittente. E dunque oggi si parla tanto di cassa integrazione in deroga, dopo il decreto Cura Italia, la corsa sulla piattaforma della regione Campania da parte degli imprenditori per chiedere i fondi utili per la cassa integrazione. Come è andata? Come state lavorando in regione in merito a questa frenetica corsa? Allora, la modalità, quindi come stiamo lavorando? La modalità è sicuramente smart working tutti, quindi abbiamo 5 mila dipendenti, molti dei quali chiaramente hanno potuto soffrire dello smart working, come è giusto che sia in questo momento. Per quanto riguarda invece la piattaforma, una piattaforma che abbiamo messo in campo in tempi brevissimi, una piattaforma efficiente, rapida e con qualche semplice click i datori di lavoro e i loro delegati hanno potuto presentare le istanze. Io credo che siamo la regione d'Italia veramente che ha avuto un flusso importante, ma senza nessun intoppo. Ad oggi sono arrivate circa 34 mila istanze, immaginate che nella prima mezz'oretta, quindi quando abbiamo aperto la piattaforma, ieri alle 13, nel giro della prima mezz'ora arrivavano 500 istanze al minuto. Allora avevo un po' timore dell'afflusso, però c'è stata una grande collaborazione anche con i consulenti, a cui abbiamo dato anche un indirizzo a parte per la presentazione delle deleghe, quindi abbiamo cercato di differenziare gli ingressi nella piattaforma, in modo tale che potesse andare tutto liscio come del resto è stato. Quindi veramente ho ricevuto per la prima volta i complimenti dei consulenti che erano felici di poter portare ad esempio la regione Campania anche magari rispetto ad altre aziende, ad altre situazioni in giro per l'Italia, perché poi molti consulenti hanno più aziende. Insomma è stata una giornata di lunedì e quella di oggi abbastanza serena da questo punto di vista, stanno continuando a presentare istanze. Bene, bene. Prima di continuare con le altre domande mi piacerebbe anche fare una panoramica su questa emergenza coronavirus in regione Campania, quindi anche il suo punto di vista di quello che si sta vivendo in questi giorni difficili, Assessore. Sì, stiamo cercando di contenere la diffusione del contagio con misure restrittive che magari fin da subito hanno scosso un po' la comunità, perché sembravano a parere di qualcuno troppo restrittive. Invece questo ci ha portato un vantaggio evidente rispetto alle regioni del nord, almeno di 15-20 giorni di vantaggio. Oggi ci hanno permesso queste giornate di mettere in campo man mano tutte le possibili misure di contenimento. E' chiaro che l'altro giorno c'è stato, avete visto tutti, il grido d'allarme del Presidente sulle dotazioni di protezione. Questo sta a significare che si avverte una grossa necessità di una piena e reale collaborazione da parte del governo su degli impegni che il governo poi ha preso. E quindi c'è bisogno di stare anche accanto alle regioni. Per quanto riguarda la nostra parte, noi abbiamo questo condottiero come il Presidente De Luca che lavora a H24 per cercare di non lasciare assolutamente nulla al caso, ma anzi di tenere sotto controllo dall'unità di crisi ogni movimento, ogni situazione non chiara. E quindi adesso anche ci si sta inserendo in maniera forte nelle case di cura, nelle residenze per gli anziani, perché potrebbe con lì iniziare una concatenazione poi di effetti negativi e di disagi. Assessore, io invece voglio ritornare di nuovo sulla Cassa Integrazione Inderoga. La Regione Campania quanti fondi ha ricevuto dallo Stato? Dal primo riparto il Ministero ha attribuito nel decreto circa 102 milioni di Euro basati su un numero di dipendenti pari a 205 mila dipendenti che possono accedere a questo tipo di ammortizzatore, perché può accedere alla Cassa Inderoga il lavoratore che non può accedere ad altri ammortizzatori sociali. Quindi dobbiamo togliere gli artigiani, dobbiamo togliere coloro che possono approfittare della Cigo e tante altre categorie. A parte gli autonomi, per cui tutti abbiamo visto che la circolare INPS e anche il decreto legge chiaramente ha previsto un percorso diverso, un percorso direttamente come bonus da richiedere all'INPS. Circa 1 milione e 640 mila Euro, ho studiato bene? Un milione di cosa? Un milione e 640 mila Euro come fondo per sopperire alla Cassa Integrazione Inderoga? Come fondo per la Cassa Integrazione Inderoga, la Regione Campania ha avuto come contributo 102 milioni di Euro circa. Ah ecco, quindi avevo capito male. 102 milioni di Euro. Perfetto, ok. Le volevo chiedere… Scusi, non ho sentito. Sulla base del calcolo che le stavo spiegando prima, quindi il contributo alle regioni è stato in questa prima trancia, perché mi piace parlare di primo contributo, è stato fatto quindi questo riparto sulla base dei dipendenti, e a noi sono circa 205 mila che possono accedere alla Cassa Integrazione Inderoga, quindi solo per questa specifica categoria. Chiarissimo, bene. Invece per quanto riguarda, andiamo adesso nel dettaglio sui centri per l'impiego, Assessore. Sì, i centri per l'impiego… Perché c'è stata anche tanta polemica in passato che non riescono in un certo senso a dare lavoro ai cittadini, insomma la regione Campania ha preso a cuore il funzionamento di questi centri? Noi li abbiamo stravolti, non li abbiamo presi a cuore, li abbiamo stravolti totalmente da quando dal giugno del 2018 abbiamo assunto 561 dipendenti delle ex province, perché ricordiamolo che i dipendenti dei centri per l'impiego erano dipendenti provinciali, mentre la funzione del mercato del lavoro riguarda la regione e quindi si aveva questa dicotomia tra chi poi sul territorio doveva implementare le misure e chi le poneva in essere, ed è per quello che abbiamo fatto questa scelta di assumerle, quindi oggi tutti i 500 e passa dipendenti dei 46 centri per l'impiego regionali, sono tutti dipendenti regionali e quindi ora sono inseriti all'interno di un processo di formazione, le abbiamo totalmente stravolti e stanno funzionando assolutamente molto meglio, il problema non è che loro debbano aprire il cassetto e così di far uscire l'offerta di lavoro, il compito dei centri per l'impiego è un altro, il compito dei centri per l'impiego è essere presente con competenza sul territorio e offrire innanzitutto orientamento, perché le esigenze dei vari target sono totalmente diverse, perché c'entra la giovane donna con magari due figli a carico che non ha studiato, non ha un livello culturale adeguato e quindi bisogna consigliare magari a questa giovane mamma un corso per diventare un artigiano, una pasticcera piuttosto che mettere a frutto la sua competenza, oppure c'è un giovane che vuole diventare imprenditore e quindi anche lì bisogna avere un percorso ad hoc con gli strumenti, conoscere gli strumenti per l'autoimprenditorialità e poi magari c'è il giovane che non ha terminato gli studi e quindi bisogna indirizzarlo verso la possibilità di continuare, di prendere poi la definizione di un titolo di studi e anche questo lo si può fare perché abbiamo tutti gli strumenti e poi chiaramente c'è il lavoro, lo sviluppo quindi della competenza e l'avvio ad una professionalità, poi c'è la formazione, è un centro innanzitutto di orientamento perché bisogna dare delle risposte tipizzate ad ogni esigenza. Bene Assessore lei ha detto delle cose molto importanti, spostiamoci adesso un po' più a sud della provincia di Salerno e quindi nel Cilento, che cosa sta facendo e ha fatto ovviamente anche in passato la regione per questo territorio, per quanto riguarda il lavoro per i giovani e anche per le problematiche che lei poneva all'attenzione, anche dei telespettatori per quanto riguarda le giovani madri che non hanno studiato, ci può dare delle notizie? Sì, diciamo che la morfologia della nostra regione richiede molto spesso dei provvedimenti ad hoc, ci sono le aree interne, ci sono invece le aree che più risentono della vivibilità come dire cittadina e poi ci sono delle aree che hanno necessità magari perché lontane dai centri abitati, montagnose, di sviluppare servizi essenziali. Dunque abbiamo cercato di valorizzare un po' tutto, per quanto riguarda l'area del Cilento sono nate numerose piccole aziende, abbiamo avuto uno strumento importante come Garanzia Giovani che già dal primo a montare importante che è stato dato alla regione Campania, quindi oltre 191 milioni di Euro, la regione Campania li ha utilizzati tutti e li ha trasformati in opportunità occupazionali ma anche formativi e di autoimprenditorialità. Ricordiamolo che sono nate oltre 600 piccole aziende, molte anche nel vostro territorio, da parte dei giovani che sono voluti rimanere nella loro terra e sviluppare un'attività di impresa. Molte attività, piccole attività incoraggiate da misure regionali sono nate anche per coloro che sono stati invece licenziati, quindi sono usciti fuori dai circuiti produttivi. Abbiamo sviluppato molto l'autoimprenditorialità volutamente perché significa molto in una regione come la nostra, significa credere in se stessi, significa potenziale anche delle opportunità autoctone, diverse proprio da provincia a provincia e quindi dare anche una mano ad esempio all'agricoltura. È stato un momento importante, immaginate che con Garanzia Giovani abbiamo realizzato oltre 41 mila assunzioni e quindi sul territorio regionale stava penetrando ed è penetrata molto bene questa misura di incoraggiamento non solo per i giovani ma anche per i datori di lavoro che hanno poi operato grazie al nostro bonus le assunzioni. Sessore, prima di chiudere le volevo chiedere qual è il tasso in percentuale della disoccupazione in regione Campania? Vi siete fatti una stima? Penso di sì, rispetto probabilmente al 2019 perché siamo appena all'inizio del 2020 quindi è inutile impostarla su questo anno in corso. Guardi, io non credo molto alle stime perché mi capita di leggere sui quotidiani o sui giornali specializzati 5-6 istituti di ricerca diversi che molto spesso invece di dare statistiche danno i numeri, nel senso che ogni regione deve fare delle analisi totalmente diverse e noi grazie ai centri per l'impiego riusciamo a fare delle concrete analisi delle realtà dei giovani, di coloro che invece stanno realizzando uno stage, di coloro che hanno finito il lavoro e purtroppo magari non riescono a trovare un altro per mancanza di competenza tecnologica perché è chiaro che le aziende oggigiorno vanno a 300 all'ora e quindi chi è uscito fuori dai processi produttivi ha questa difficoltà, questa difficoltà che si sana con una camera di compensazione che si chiama formazione, quindi ci sono dei percorsi che non riguardano soltanto i giovani, quindi la disoccupazione non può essere sicuramente quella giovanile perché sarebbe innanzitutto in occupazione, né può essere valutata in un momento in cui ad esempio la persona di 50 anni si sta formando oppure l'autoimprenditorialità esce fuori dal calcolo della disoccupazione, insomma le percentuali sono veramente ballerine, dipende dall'angolatura anche del tema che si vuole prendere in considerazione. Io dico che invece dobbiamo continuare sulla strada che in questi 5 anni ci ha contraddistinto, quindi sviluppare ogni tipo di opportunità affinché funzionino le sentinelle come abbiamo detto e questi sono i centri per l'impiego, siano qualificati i centri per l'impiego stessa attraverso personale nuovo e lo stavamo facendo con il concorso per 641 operatori dei centri per l'impiego, migliori la pubblica amministrazione e ci stavamo anche in quel caso provando con il corso concorso, quindi messa insieme una pubblica amministrazione efficiente e aiuti e incentivi alle aziende è chiaro che poi si riesce anche a fare un matching di opportunità, noi dobbiamo sviluppare opportunità. Bene, allora Assessore un suo messaggio finale, insomma fiduciosa nella ripresa del dopo emergenza, la campagna riuscirà così come ha fatto ad affrontare in tempo l'emergenza con il nostro governatore De Luca che ha anticipato anche il governo in un certo senso e saremo insomma anche qui all'avanguardia di superarlo bene, come la pensa lei? Credo che i campani siano un popolo fortissimo, siano un popolo che ha saputo negli anni rialzarsi varie volte, quindi i giovani si daranno sicuramente ancora più da fare, anzi in questo periodo in cui evidentemente le famiglie si sono ricompattate, forse auspichiamoci che si sia anche parlato un po' di più in famiglie, quindi ci si sia fermati da quella routine quotidiana che ci distraeva tutti e quindi saranno più forti le famiglie, sarà più forte una comunità che ha voglia di rialzarsi, come regione campagna sicuramente stiamo mettendo in campo anche ulteriori misure che arriveranno a raggera insomma un po' a tutti, misure che riusciranno a far passare questo brutto periodo anche con un supporto economico importante, ci stiamo lavorando, il Presidente De Luca ha chiesto a tutte le parti sociali di dare un contributo in termini di idee, cercheremo di fare un mix di tutte le opportunità per uscire fuori con un piano sociale forte ed importante, nel frattempo che chiaramente il governo fa la sua parte, però noi abbiamo presentato sul decreto legge ad esempio molti emendamenti perché naturalmente quando si mettono in campo dei decreti legge per la velocità stessa dello strumento si lasciano fuori delle situazioni, come ad esempio le assunzioni dopo il 23 febbraio, c'è bisogno di disciplinarle perché altrimenti tante persone non hanno la possibilità di poter accedere alla cassa integrazione in deroga, questo non l'abbiamo detto, però diventa fondamentale che il Ministro del Lavoro accolga i nostri emendamenti. Bene, grazie Assessore per il suo contributo prezioso e a questo punto l'aspettiamo nel Cilento appena ci sarà la possibilità e finirà tutta questa emergenza che ci vede costritti a lavorare da casa per noi in tv, la ringraziamo davvero di cuore e speriamo anche di sentirci nelle prossime settimane per ulteriori aggiornamenti proprio sul mondo del lavoro in regione Campania. Un grande piacere, grazie Assessore, arrivederci, grazie ancora.